Ciao a tutti, sono White Rose e oggi vi do qualche piccolo suggerimento per allenare la vostra chiara udienza. Prima di iniziare vi ricordo che in descrizione troverete il link del video dedicato alla chiara udienza. Dunque, fate partire una canzone e portate la vostra attenzione solo su uno strumento musicale, che sia il violino, la chitarra, la batteria, eccetera eccetera. Riuscite a isolare il suono da tutto il resto? Ascoltate più volte, poi riascoltate la stessa canzone concentrandovi su un altro strumento e così via. Dopodiché passate ad un'altra canzone. Un altro suggerimento per allenare la chiara udienza è questo. Prima ascolto ai rumori esterni. Possono essere suoni vicini o lontani. Provate a focalizzarvi su ognuno di essi. Ripetete questo esercizio per una settimana. Un altro esercizio semplice che potete fare è questo. Immaginate di accendere una radio e di sintonizzarvi sul vostro canale della chiara udienza. Fate alcune domande e ascoltate le parole che riceverete come risposta. Queste parole potrebbero avere un senso o meno, ma all'inizio non analizzatele. Scrivete semplicemente le domande e le parole di risposta per non dimenticarle. Man mano che farete pratica e vi sentirete più sicuri, potrete cercare di comprenderne il significato. Per oggi è tutto, a presto!